Sono a presenza molto ampica, guarda lì dietro, quella è la chiena di San Giovanni Pagliatello, un'agenista di sua campanile da 75 metri più alto e questo, e questo te la dici lunga, perché quando hai una campanile più alto, più più nuovo, e poi lo perdono, guarda che io sopportare, guarda che sono importante. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.